Oggi, sveglia, sveglia, sveglia Fanchi, sveglia, che c'è Rossi? Che c'è? Sono tipo le 9.40, Oh, davvero non vi faccio il taglio? Beh, ieri sono andato a ballare! Devo andare a prendermi la panchera. Però prima ho letto le pantofole. Eccomi di nuovo, mettiamo le pantofole per il biglietto. Sono un classico per me. Con il right, left e di posta. Ecco. Adesso, andiamo. Una di tutto. Alla, all'arraggio. Ecco. Adesso, mi devo lasciare fare la faccia. Giabatta. Giabatta. Dove si finita, eccolo? Giabatta. 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 Grazie. 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 Allora, oggi come colazione c'è Nutella. Nutella. Nutella con... La vuoi la pera? La mia un biberon c'è. C'è anche da dire che... La quale ti posso fare solo un biberon secca. Fa niente, tanto io non mangio. Allora... Ecco a te. E' assi delizioso. Adesso... Adesso direi proprio di cambiarmi. Si. Cosa vi metto? No. No, se mi vuoi accortere il mio patio. Ok. Jack! Ma guardate qui. Stavo che ti crede che c'è il nord. Scusate, adesso ti devo vedere. E' assi delizioso. E' assi delizioso. E' assi. E' assi delizioso. E' assi delizioso. Allora ci dobbiamo vestire. Qualcosa di comoda. Quindi direi... Certo. Mi dispiace togliermi con questo giubbotto. Però... Che, diciamo, non è più ora di dormire. Io ci resto lo stesso. Però tu sei una notte. Allora... Mmm... Questa... Si può andare poi. E' molto frutta. Un'ora cosa di lungo non ce l'hai. Potresti pur sempre tenere... No. Allora che vuoi. Facciamo... Beh, sempre completino di fresh. Con delle zip belle. Calde calde. Ma c'è anche il tuo completo. Pronto. Pronto. Oh, hai ragione. C'è anche il mio completo. Eh... Aspetta. Certo. Per caso oggi siamo... Il giubbotto di rocker potrebbe farvi molto comodo. C'è scritto i miei siti. Aspetta poco. Che cuanto. Vabbè. Sucrto i miei siti. E ci sono tutti i miei siti. Quindi, io vorrei... facciamo la zip facciamo le mie si tornano bene ok, zip 2 ha un pezzo di nuovo la patofola vabbè, tanto sbaglio mi si rovigate le calze vabbè, hai ragione questa si va fare poche la dai grutino come piperò il giordaliero vediamo questo di starbucks accessori no, accessori non tanto voglio provare questo ecco qua ti ha sorvigliatato adesso? si, in realtà mi ha sorvigliatato adesso va tu forse sto meglio allora no, è stato disperato scusate, si leva quasi il vetro perché questa è la coppia allora oh eeeh mi metto ma dove devo andare guarda devo andare a comprarli tutti nuovi stessi modelli ma tutti nuovi di secca da poco arriva di loro vabbè questo però chi ci chiude basta per te la ciappata potrei anche usare questo proprio però che non è piuttosto che non è piuttosto che non è piuttosto adesso di resto e a dopo pronta wow stai una favola grazie allora adesso visto che vi siete stasera mettiamo questo qui e si mette la galleria qua devo andare a fare compiere adesso adesso potrei uscire anche così perché è un po' tanto freddo un po' però si quindi lasciamo uscire così ok eccoci qui devo pagare tutti i vestiti che avevano vecchi da casa e dovevano comprarli nuove che stai di borsa per noi buongiorno 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 perché sei in una borsa eh 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 io se no non mi leggo in piedi ma è baschio o freddo? baschio io non avrei mai mai detto vabbè comunque vorrei fare il solito abbonamento di nuovo vestiti cambi usati ok questo giubbattino oggi dà problemi qua qua ah 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 wow ho portato anche per la vai si chiamano già pronto che è finito grazie adesso prende la cesta si prende la città la città la città la città la città e ok quanto viene eeeh ma mai state riuscire a cadere a scaldare l'alto faccio quel computer si in realtà oggi sono l'unica che mi sono alzata eh io sono l'unica che mi sono alzata eh ma hai capito chi ero sono eh hai capito chi ero sono eh certo ci capite a mamma ancora sono non me la comando sono le 9 e 54 ah grazie non posso poter coprire e deve dare l'elettronica ok allora quale caccia di elettronica si comprare questo computer il mio devi metterlo nel cesto cesto fuori cesto dentro cesto cacarello ok ok guarda guarda il computer ok quindi ho sentito per dire di salla ma oh ho già fatto l'ho fatto di là attra non o come mi